mi raccomando senza bruciarsi no ora io da piccolina mi sono ustionata ragazzi con il tè bollente avevo due mesi e mi sono praticamente rovesciata è stato interessante brindisi nonostante la giornata uggiosa noi ci inventiamo sempre qualcosa andiamo mangiamo ragazzi allora buon appetito abbiamo sei ore di viaggio io sono buono buone veramente non dire c'è di assaggiare le pietre se sincero non so prende faccio lì mi prendi un cucchiaio un po anche le lenticchie saponite con i radicchi anche l'altra volta faccio questo era lì qualcosa ora lì così è lì ho compagnato come 14 e mezzo no cosa puoi fare veramente buono però va giù bene è una bellezza è un piacente quando abbiamo la casa nuova e sai di dove si viene il cristallo che mi chiede il cristallo di con le valdezza lei non so per cucinare ma fino a un litro e mezzo di tapenello bianco ma non è vero l'ho usato per cucinare cos'è che non capisco che per cucinare per il con quei bicchieri che ne dava a brincare al nastro vabbè ho capito ma non è che ci metti un litro e mezzo o due giorni ogni pollo si mangiava una volta sola ma che c'entra lo metto nel pollo e poi lo metto nel pollo poi nei risorti buona si portano nella provenza in un tempo sai allora per natale chi si regala? i bicchieri? ooooooo bicchieri da vino? eh interessante bicchieri da vino? nooo vabbè sono scandalo e poi c'è anche questo fatelo non l'ho mai saputo nooo legatelo nascosto per tutto questo tempo mh mh la metà delle pizzeria che c'è qui al mondo non credo sia capace di portarti un vino che sia apposto con la birra bianco vabbè se ti fai una ricerca e sai qual'è il vino che è tu capito ma scusi mi potremmo portare un pinko pallino 2015 in tenezza perché ci sta bene con la maialona che ho intenzione di prendere no è una giornata di merda e ci tocca star qua in casa cosa troviamo comunque da fare a che si gioca bimbi che giorni ci sono una tristezza stanno molestando il gatto per amantino povero lascialo si allunga la mano no infatti vieni in guaia se volete l'acqua questo è il momento di bullo acqua che miseria subito acqua allora l'acqua è qui ma aspetta bisogna capire mettiamo tutti nel verso giusto la macchina questa parola è un tipo di macchina porsche ferrari no allora vediamo un attimo allora è composta si può dire che la prima parte di questa parola è composta da una parola che praticamente quando te fai qualcosa allora fai qualcosa che ti serve e quindi è necessario necessario e utile e quindi è un'altra parola che mi piace non 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 è una roba strana vabbè comunque partiamo 3 via allora praticamente alle volte quando vado in via ferrata non capita soltanto da scalare ma alle volte si passa camminare dentro spazio anche dentro vicino è più lungo è più lungo è più lungo bravo ottimo allora allora aspetta aspetta un attimino no il tempo c'è 34 secondi allora tennis ok con cosa si gioca? la pallina la palla la racchetta ok con che cosa la tieni? quella mano destra ok il polcino quella sinistra mancino bravo fanculo oh è un partito vai ecco che ti ha detto ora? mancino destra racchetta fanculo che ti ha detto? cos'è? è una volgarità è una parolaccia bravo no ultimo passo vai veloce stop no ci puoi andare a doppiare il sito la sbotta perché fino adesso non avevo la competizione adesso c'è la competizione forte sì ma poi anche se fosse stiamo perdendo io e Yaris non è una cosa normale qui ci stanno infamando di tutto e di più no io non ho parole che è successo? no ma io mi sono messa acqua per qua lui grazie ti vedi la competizione penso io tutto non ho mi sono Grazie a tutti